Allora, questa è una prova, cioè è proprio massima questa è Cioè, la perfezione, questa è, se funziona, è il top Proviamo Allora, la perfezione, questa è la perfezione 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 Allora 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 Grazie a tutti 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 Era un scudo quello Io che ho messato come un maiale Grazie a tutti 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 Bello Grazie a tutti 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 Grazie a tutti